Molti all'estero pensano che la Sardegna sia solo questo. Noi sappiamo che c'è molto di più, non solo in estate, ma soprattutto ci sei tu. Per te la Sardegna non ha segreti. Ogni angolo, ogni storia, ogni personaggio, tu li conosci. Vuoi svelarli ai viaggiatori curiosi di tutto il mondo? Lavora con noi. Che tu sia un semplice appassionato o un operatore professionale, puoi cambiare per sempre il modo di conoscere la Sardegna. Unisciti a noi. Entra a far parte della storia. Gavina wants you.